Buonasera, siamo al trofeo Jack estate 2013, finalmente è la finalissima, siamo qui con i due presidenti, Michele K10 e Luigi Nappi. Una parola prima a Luigi Nappi perché gioca in casa, la squadra di Cimitile. Vogliamo vincere il titolo perché siamo di Cimitile? Allora, una parola anche a Michele K10, perché vogliamo portare la vittoria a questi ragazzi? Vogliamo vincere come al solito, è l'obiettivo sempre della mia squadra, però questa sera la squadra è un po' rimaneggiata, alcuni acciacchi vari dei nostri giocatori principi. Il nostro giocatore è più forte, è più rappresentativo, Luzio non c'è, però no, quindi io parto rimaneggiato sicuramente. Però ho visto il più canapano, il testo di cattore, i giocatori comunque di rilevo. Sì, sì, noi giochiamo, giochiamo sempre per vincere. Nell'altra compagine abbiamo invece Nico De Palma, Antonio Silvestri, i giocatori di categoria, faranno la differenza stasera? Sicuramente, la squadra di testa è un altro pezzo da 90. Ha parlato già con il mister, sa la formazione che schiererà stasera? Non ha buono, è sorpresa, c'è anche Cino Giovino. Un saluto anche a Luigi Giovino, a Felice Paolo Panico, il capitano. Felice Paolo, a tutti. Chi teme della squadra del suo compagno? Il presidente. Il presidente. Peccato che non si smonta. Invece dell'altra squadra chi teme? Il presidente. Stefano, il presidente Amici, sarà sicuramente uno spettacolo. Il trofeo Jack vi ringrazia. Ci vediamo dopo la partita, in bocca al lupo a tutte le squadre. Grazie. Vincere il migliore. Il presidente. Il presidente. Il mister. Il figlio delle meraviglie. Eccolo. Capitano, presidente. Il mister. A prescindere di questa partita, questo onore verrà... Consolidata. Nel tempo. E anche l'anno prossimo c'è ufficiale. La riconferma di balletta. Un contratto blindato per balletta cinque anni. Lo vorremmo vedere anche un po' in campo per l'anno prossimo. L'anno prossimo giocheremo inizio. Nel campionato qualche apparizione, anche se sappiamo che ci vuole un bel po' di soldi per portarla in campo. Bravo, bravo. Il trofeo Jack dovrà fare un torneo. Un torneo. Non ti merita. La semifinale come è andata? La semifinale è stata una bella partita, purtroppo non avevo i miei uomini migliori. Secondo me... Noi i miei uomini migliori ce la siamo giocata. È stata una partita senza sei. Partita senza sei. Troppo senza i miei uomini migliori comunque 4 a 1 non è finita un ampio marchio. Ma potrebbe finire anche 1-12 a 1. Ci può avere una distinta, per favore? Subito. Marco la distinta, Marco la distinta. Hai capito? Potrebbe finire anche 12-13 a 1. È finita 4 a 1. È finita 4 a 1. È stata una bella partita. Che significa? Pensiamo a questa finale adesso. Sarà dura. Molto, molto dura. Grazie a tutti. 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 Allenatore Balletta Maurizio, allenatore in seconda di Palma Pasquale, Presidente, seconda Natti, Presidente, direttore sportivo Calendo e Cesar Felice. Grazie a tutti. Capitano Pezzerella Domenico, Catapano Lino, Catapano Salvatore, Di Mauro Giuseppe, Visco Rocio, Zino Giovanni. Allenatore in seconda, Angelo Rieto, Presidente, Michele Campadegi, DS Nappe, Giacomo e Avella Aghello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.